Ed eccoci ancora nello studio di Safe Drive Motorsport, la seconda parte di questa puntata decisamente interessante, molto molto intensa. E beh, non rubiamo altro tempo, veloci, passiamo al secondo ospite quindi di questo appuntamento di Safe Drive Motorsport, ovvero Fabrizio Bardi, Team Principal di RTS Uncork Competition, ben ritrovato Fabrizio. Ciao, salve a tutti voi. Allora, siamo anche nel vostro caso, naturalmente nel finale di stagione, come sempre dobbiamo dire tanti gli impegni che vi vedono presenti sui campi di gara un po' più disparati, dobbiamo dire ovviamente, però nella dimensione italiana se sei d'accordo mi sembra che sia giusto partire dal rally, un impegno che è crescente per voi nel corso di questi anni, è crescente e però sono crescenti anche i risultati, dobbiamo dire, no? Perché insomma vi riconfermati in un certo qual modo, quest'anno il titolo è quello asfalto due ruote motrici, l'equipaggio sempre Campanaro-Porcu, quindi bravissimi, che ora loro for fiesta, insomma credo che la soddisfazione sia non poca, riconfermarsi è sempre difficile Fabrizio e ci siete riusciti molto bene. Eh sì, non era facile, il team, i ragazzi, tutta la squadra al completo sono stati veramente al di sopra delle nostre aspettative, campionato difficile, avversari di livello importante, per cui veramente è una grandissima stagione, sia dal punto di vista tecnico che è dal punto di vista umano, perché la squadra sta crescendo tanto, sta crescendo per il progetto che avevamo, quindi una filiera facendo crescere dal ragazzino che si approccia per la prima volta alla macchina del rally e su su nel proseguo della carriera. Tra l'altro, insomma, il titolo quello pilota è arrivato in occasione del Due Valli, in una gara molto difficile, c'è stata una bella rimonta, la nebbia, le complicazioni, insomma un po' di cardiopalma anche in quel caso. Sì, è strano ma vero, diciamo che nelle difficoltà ci esaltiamo solitamente, sia probabilmente per tipologia anche di prodotto, ma anche di lavoro proprio di squadra. La squadra quest'anno è stata veramente notevole, nonostante all'inizio per una scelta un po' conservativa Daniele non fosse al livello dei suoi avversari, la squadra ha fatto muro, quindi anche dal punto di vista di motivazione, dal punto di vista mentale, Daniele ha potuto dare il meglio e si è visto nel proseguo della gara, con tempi eccellenti, risultato veramente incredibile, una rimonta di quelle, non lo so, dovessi paragonare a una partita di calcio, è come vincere all'ultimo minuto con un gol di rovesciata, uguale. Insomma, quindi con il risultato e lo spettacolo anche, diciamo dai, che non guasta mai. Senti, sono molti anni che parliamo della presenza Ancoc nei rally, rimaniamo concentrati ovviamente sull'Italia, ci hai raccontato le varie evoluzioni, adesso accompagnate appunto anche da questi risultati così importanti. Ti chiedo intanto se siete soddisfatti, se state rispettando in un certo senso una sorta di vostra scaletta progressiva, no? Che vi eravate probabilmente, anzi sicuramente programmati in questi anni e quali sono gli obiettivi di questa scaletta? Allora, dovessi dire che sono totalmente, non soddisfatto perché non sarebbe la parola giusta, ma che le cose sono andate esattamente per come mi aspettavo, forse non sarebbe vero. L'impegno nostro da quando abbiamo iniziato nel 2014 ha visto un cambiamento ad un certo punto perché non riuscivamo a trovare un risultato e una partnership che soddisfacesse le nostre aspettative. Il secondo corso di questa operazione invece è andato addirittura al di là delle aspettative. Abbiamo trovato una situazione del materiale umano oltre che tecnico veramente di primissimo livello. Per questo che anche dal punto di vista tecnico tutto proseguirà anche nella prossima stagione, nelle stagioni a venire. C'è, come abbiamo parlato anche la scorsa volta, uno sviluppo importante che vedrà luce durante la prossima stagione. Causa Covid purtroppo ovviamente ci sono stati dei rallentamenti nello sviluppo perché non si è potuto più fare test, non si è potuto più creare quel gruppo di lavoro e rispettare quella scaletta che ci avevamo prefissati, ma già a partire dalla prima gara del nuovo anno, dalla prima gara del 2021, avremo a disposizione il nuovo pneumatico. Io la domanda provo sempre a fartela, poi so che tu giustamente sei un filo reticente perché non vuoi svelare mai troppo. Però ti chiedo che cosa vi manca ancora sostanzialmente? Su cosa avete lavorato? Su cosa vi aspettate la crescita e il miglioramento per incrementare ancora di più le prestazioni? Dunque, sul prodotto attuale sicuramente dove non riuscivamo ad avere il passo degli altri era sicuramente sulle prove molto abrasive e comunque le prove molto impegnative con caldo. Il nuovo prodotto sicuramente risolverà questo problema. Io spero veramente di avere a disposizione un'arma importante per la prossima stagione e questo sbloccherà anche ulteriori programmi, ulteriori investimenti da parte nostra che erano stati messi un attimo in stand-by fino al raggiungimento di un obiettivo tecnico che sembra essere stato adesso raggiunto e non vediamo l'ora di poterlo testare perché vogliamo essere pronti per l'inizio della stagione nel migliore dei modi. Senti, Anco che è tanto dimensione anche internazionale ovviamente del motorsport, è finito l'impegno diciamo nel campionato che è arrivato a chiusura quest'anno anche del DTM, però io vorrei allargare il discorso e guardare ancora più in là perché ci sarà un impegno a partire dal 2022 dove dovrete avere un prodotto che sia all'altezza di un valore di coppia smisurato naturalmente perché sarà quello della formula e la potenza è relativa anche se cresce, attenzione perché supereranno i 400 cavalli, questo è monoposto e pare che in modalità attack andranno fino a 480, quindi comunque incominciano ad essere belle toste, ma la formula E, la formula full electric, totalmente elettrica, diciamo che l'impegno proprio sull'accelerazione della coppia sarà veramente notevole, è una bella sfida? È un'enorme sfida, bella e interessante per la tipologia della vettura, completamente nuova, per il concetto di competizione, anche questo molto moderno, innovativo e soprattutto per la sfida tecnica perché come hai detto la caratteristica peculiare delle vetture a motore elettrico è proprio quella di avere una coppia impressionante, cioè un on-off, un tutto subito che mette sicuramente a dura prova le gomme. A febbraio inizieranno i primi test e avremo modo di vedere cosa riuscire a mettere sul tavolo. All'inizio i test verranno fatti su vetture con motore tradizionale, che però abbiano una coppia parimenti importanti a quella che poi avranno le Formula E, fino a che non verrà rilasciata la nuova specifica di vettura, la generazione 3, la Gen 3 della Formula E, con la quale poi inizieremo i test diretti sulla vettura vera e propria che equipaggerà i nostri pneumatici. Un'ultima cosa, tra l'altro ricordiamo che il format della Formula E storicamente vede circuiti cittadini, protagonisti, per vari motivi, insomma c'è un discorso legato anche all'ambiente, al tipo di comunicazione e poi anche perché non era facile, soprattutto all'inizio, portare queste monoposto a correre in pista data la durata limitata delle batterie. Insomma si è combinato un po' il tutto, quindi anche questo elemento immagino sia una bella sfida perché sui circuiti ci sono dei riferimenti che vanno sempre ricontrollati, ricalcolati, perché l'asfalto cambia, cambiano le condizioni, però ci sono dei parametri, dobbiamo dire, che un pochino aiutano. Insomma, sul cittadino secondo me invece questa cosa è anche abbastanza, significa avere probabilmente una gamma di utilizzo del pneumatico ancora più ampia, è così? Sicuramente sì, la battaglia lì è dal primo all'ultimo giro, anche perché proprio per il fatto che i circuiti non hanno grossi riferimenti, non sono circuiti dove i piloti hanno un loro storico di tecnica e tattica di guida, questo rimescola un pochino le carte e appiattisce valori creando un ulteriore spettacolo nello spettacolo, un po' perché l'asfalto non è quello tradizionale del circuito, quindi il grip non è lo stesso, è sicuramente inferiore e cambia con l'andare della manifestazione, perché spesso sono circuiti stradali ricavati su asfalto a stradale, dove si corre giusto nell'evento del Formula E, quindi anche la gommatura dell'asfalto cambia durante il weekend da zero a, in più aggiungiamo proprio le tipologie della vettura, non è così semplice da gestire. Fabrizio, io ti auguro intanto buon lavoro, perché ce n'è un sacco come sempre, ma buon per te, buon per voi, naturalmente su più fronti, quindi insomma anche la versatilità deve essere un'arma che dovete sempre avere da parte, però insomma direi che in genere ve la cavate molto molto bene, quindi in bocca al lupo, buon lavoro e grazie mille per essere stato con noi. Grazie a tutti voi e spero di vedervi magari in qualche pista a giro per il mondo con la Formula E. Speriamo, perché sarebbe anche un bel segnale in generale di quello che potrebbe risolversi a breve un po' per tutti, lo prendiamo un po' in questo senso. Grazie ancora Fabrizio Bardi, Team Principal RTS Ancoc Competition, invece per quanto mi riguarda, l'appuntamento di Safe Drive Motorsport per questa settimana si chiude qui, naturalmente. Ci vediamo alla prossima, grazie, ciao! Ciao!